Ciao, stasera. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Luca. Come stasera? Se si servite a te. Ah, ma che bella questa volta. Amal, 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 una sedentità. Lascio stare. Sediti con noi. Lascio stare. Grazie, sto bene qui. Grazie. Ti piacerebbe che venisse qui. Sei sempre lo stesso. Bravo, bravo. Grazie. Grazie. Ah, ciao. Grazie. Vi auguro buon appetito. Buon appetito. Che altro vi devo dire? Eccoli qua, Ierani. Un applauso. Un applauso. Come si sono confinati. Ierani è la serata. Non ti levare il berretto, se no chi ti riconosce. Ritando. La chiesa. La chiesa. Il berretto basta non rompere. Cerchi qua. Oh, cominci. Che venisse tutti i cani in questo giorno sanico del nostro piccolo villaggio. Ringraziamo per la loro presenza il nostro prete e il nostro imam, simboli della nostra solidarietà e della nostra intenta. E vogliamo farvi le nostre scuse per questa lunga e difficile scarpinata. Ma come forse voi saprete, abbiamo cercato e cercato e il segnale c'è soltanto qua. Miei cari compaesani, io sono felice, o meglio tutto una gioia, di essere in compagnia vostra sotto questa volta stellata, in questo giorno glorioso, in cui noi, in quanto unità unica, stiamo per passare dal ventesimo secolo al ventunesimo secolo. Vorrei esprimere gratitudine al nostro Abu Ali. Evviva Abu Ali! Vi assicuriamo che Brigitte non sarà trapassata in vano. Brigitte è una santa! Lei si è sacrificata per noi, ha sacrificato il suo corpo, chiunque di noi sarebbe potuto andare incontro allo stesso fato. Arrostito allo spiedo? Ricordatevi, solo la capra di destra è stata sgozzata all'uso islamico. Che Allah ti benedica, Abu Ali! Allah sia con te, Abu Ali! Come noi abbiamo superato il conflitto, che c'è tanto divisi, facendo scorrere il sangue tra fratelli, potremmo presto, spero, riparare il ponte. Così potremo andare avanti e indietro, come tutti gli altri. E qui vogliamo ringraziare la signora Yvonne, la mia dolce metà. che con generosità ci ha messo a disposizione questo televisore. cosa si devono fare? Buonasera. Alte temperature e un caldo soffocante stanno dominando su tutta la regione. Erano anni che non si registravano più livelli simili. Il termometro ha raggiunto anche i 41 gradi. Pertanto, consigliamo a tutti di proteggersi bene dal caldo e in particolare di coprirsi bene la testa per evitare un colpo di sole.